La compagnia toscana Trasporti Nord presenta il biglietto elettronico, la nuova carta mobile utilizzabile sulle linee lucchesi sarà personale e impersonale, ricaricabile o a scalare e dovrebbe incentivare l'uso dei mezzi pubblici. La provincia ricomincia da tre scuole, viabilità e patrimonio, immobiliare sono le linee guida su cui si articola il programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020. Nessun timore per il cattivo odore, arrivato il sì della regione toscana all'ampliamento di Pioppogatto, l'impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti gestito da Erso e di proprietà dei comuni versilesi. Il restauro della statua a linea di Santa Lucia domenica pomeriggio nella chiesa di Oneta, un concerto del maestro Graziano Polidori per celebrare l'intervento di restauro eseguito da Massimo Bonino. Seravezza e Realforte giocano in anticipo e Verdeazzurri ospitano la Toscandicci in una gara assolutamente da vincere, punti salvezza per i Norazzurri a San Gimignano, ben sette gare su dieci anticipate a sabato pomeriggio. Brunello rivuole un grande giro di Toscana, dopo 30 anni il vulcanico patron non allestirà una squadra elite, ma punterà tutte le risorse sul ritorno ai vecchi fasti della corsa a tappe intitolata all'indimenticabile Michela Fanini. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Dunque la compagnia Toscana Trasporti Nord ha presentato il nuovo biglietto elettronico. Vediamo tutti i particolari in questo servizio. Un biglietto elettronico che nelle intenzioni della compagnia Trasporti Toscana Nord dovrebbe favorire gli utenti dei mezzi pubblici e incentivarne l'uso. Non solo quindi pendolare studenti, ma anche tutti coloro che possono trovare in CTT una valida alternativa all'utilizzo dell'auto privata. La presentazione delle card elettronica, la quale rappresenta Stefano Baccelli in qualità di Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale, arriva nell'ottica di una volontà di ammodernamento da parte dell'azienda di trasporto pubblico e segue di pochi giorni quella di 9 nuovi mezzi a Lucca. È una carta che può essere ricaricata con tutti i nostri titoli di viaggio, che può essere ricaricata sia presso le nostre biglietterie che direttamente dagli utenti, presso le emettitrici automatiche, addirittura da casa via internet, usando la propria carta di credito. Quindi diciamo così semplifica molto per l'utente l'acquisto e la disponibilità di titoli di viaggio, non serve più andare a fare le code per comprare un abbonamento mensile per esempio quando scade alla fine del mese e quindi insomma è una semplificazione, un miglioramento per gli utenti. È anche un bel vantaggio per l'azienda perché consente un maggiore controllo rispetto al fenomeno dell'evasione perché contestualmente diventa obbligatorio appunto bipare questa carta mobile con qualunque tipo di titolo di viaggio, sia biglietti singoli che abbonamenti. Se la carta ha credito disponibile e quindi ha un titolo valido si accende una luce verde e il suono è un bip, se invece la carta non contiene un titolo di viaggio valido si accende una luce rossa e il suono diventa un bop e quindi sostanzialmente c'è una sorta di controllo sociale diciamo sull'evasione che ci aiuterà insomma a contrastare ulteriormente questo fenomeno molto sgradevole che purtroppo in Italia è molto diffuso. Prima di proseguire una notizia di cronaca, venerdì intorno alle 14 su segnalazione di alcuni cittadini, le volanti hanno salvato da una selvaggia aggressione una donna di 33 anni mentre veniva picchiata da un ragazzo di 20 anni. La scena si è svolta sugli sparti delle mura nei pressi dell'uscita di San Frediano. I protagonisti, entrambi nigeriani richiedenti asilo, si sono incontrati fuori dalla questura dove la donna si era recata per ritirare il permesso di soggiorno. L'uomo ha tentato subito di approcciarla ma nonostante i rifiuti della donna l'ha seguita fino alla sortita di San Frediano dove dopo aver sottratto il permesso di soggiorno l'ha ricattata al fine di ottenere un rapporto sessuale all'ennesimo rifiuto della donna. Infine pur di averla ha cominciato a picchiarla. Per fortuna la scena come dicevamo è stata notata da alcuni cittadini che hanno subito chiamato il 113. In pochi istanti la squadra volante della polizia è piombata sul posto quando l'uomo stava ancora picchiando la donna che è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure mediche. L'uomo invece è stato arrestato per estorsione, tentata violenza sessuale e lesioni personali e condotto in carcere a San Giorgio. Gli investimenti triennali dal 2018 al 2020 della provincia di Lucca se ne è parlato nel corso di una conferenza stampa ne ha parlato il presidente della provincia Luca Menesini. Scuole, viabilità provinciale ma anche manutenzione del prezioso patrimonio immobiliare dell'ente, attenzione al trasporto pubblico locale e al settore dei beni culturali. Sono queste le linee guida su cui si articola il programma delle opere pubbliche 2018-2020 della provincia di Lucca. Un programma articolato e ambizioso che è stato illustrato venerdì mattina nella sala giunta di Palazzo Ducale dal presidente della provincia Luca Menesini nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche la dirigente dell'ufficio tecnico Francesca Lazzari e una delegazione di consiglieri del gruppo di maggioranza. Tre i punti fondamentali che abbiamo chiesto di sviscerare a Menesini. Il primo riguarda la situazione generale dell'ente. Quest'anno è l'anno del superamento delle criticità finanziarie per la provincia di Lucca. Sono sei anni a questo punto che è in una situazione di criticità finanziaria. il 2019 consideriamo che sia completamente superata questa criticità finanziaria e quindi di poter approvare il bilancio entro i termini stabiliti, quindi entro febbraio. Quindi una situazione finanziaria solida e che permetterà anche interventi significativi, interventi prima di tutto di investimento. Di rilievo anche l'aspetto legato al piano delle opere pubbliche. Il ponte sul cerchio firmato in questi giorni ne è sicuramente un esempio, ma anche i finanziamenti ottenuti sulle scuole. La provincia di Lucca è la provincia che a livello toscano ha ottenuto più finanziamenti a livello nazionale sulle scuole secondarie, quindi interventi sia sulla Piana, la Valle che la Versilia. Ed infine uno sguardo anche a quelli che sono gli obiettivi strategici. La stazione unica appaltante, essere centrale di appalto per conto dei comuni, è un ambito che sicuramente svilupperemo e cresceremo su questo aspetto. Infine l'ultima questione importante è quella anche di essere ente attraverso il quale si svolge una programmazione del territorio, una programmazione per le funzioni di sviluppo, accanto alla mobilità, al trasporto pubblico locale, cioè tutte quelle questioni che la dimensione comunale è insufficiente. La dimensione provinciale da questo punto di vista può permettere una pianificazione più consona. Prosegue l'attività di sistemazione messa in sicurezza delle alberature presenti lungo i viali di circonvalazione sugli spalti delle mura di Lucca. Il Comune metterà a dimora nuovi alberi nel tratto tra Porta San Pietro e Porta Sant'Anna. L'assessore Marchini ha così commentato l'obiettivo è di mettere a posto tutte le alberature dell'intero anello della circonvallazione. Ci spostiamo in Versilia, Massarosa, Pioppogatto si allarga, nessun timore per i cattivi odori. È arrivato il sì della regione toscana all'ampliamento di Pioppogatto, l'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti gestito da Ersu e di proprietà dei comuni versilesi, ma non ci saranno aumenti dei limiti massimi dei volumi trattati, tradotto più spazi ma non più rifiuti. La soglia massima annua resta quella attuale delle 140.000 tonnellate. Pioppogatto sarà trasformato in un impianto di valorizzazione, biostabilizzazione e compostaggio, ospitando anche la lavorazione della differenziata, oggi attiva in due strutture a Pietrasanta che saranno chiuse. Sarà realizzato un sesto capannone depressurizzato per consentire la sosta dei mezzi in attesa di scarico e per lo stoccaggio di materiale. Obiettivo finale, recuperare dalla massa indifferenziata altre 20.000 tonnellate di materiale riciclabile ogni anno. Si tratterà di completare determinati lavori di stabilizzazione delle aree, aree non aree, aree interne per la pressurizzazione, per tutte queste cose qui e naturalmente di riorganizzare la lavorazione. Che tempi si prevedono? Diciamo che sarà necessario come minimo iniziare, inizieremo senz'altro entro l'estate, però probabilmente ci vorrà almeno fino a tutto il 2020 per arrivare alla conclusione complessiva del progetto. Pioppogatto vede impiegati al momento 30 addetti, con questo sviluppo ne arriveranno altri 15. Ersu ha assicurato che con l'ampliamento non ci saranno maggiori emissioni di odori. Sul tema miasmi, Mungai torna a difendere l'impianto. La quantità di prodotto è la solita. Perché deve puzzare di più rispetto a quello che potenzialmente può puzzare ora? Al di là che nessuno ha mai accertato in maniera precisa che gli odori vengono da Pioppogatto. Tante volte gli odori sono venuti dalle ammendanti che sono messi sui campi che sono intorno alle piante di Pioppogatto. Non ho possibilità di fare ordinanza per impedire questa coltivazione, ma c'è chi ci porta camionate e camionate di materiale intorno all'impianto, che poi è materiale organico in putrefazione, che è quello che poi dà l'odore. E questo non se ne tiene mai in considerazione. Cambiamo argomento, controllo totale, parliamo di rifiuti del non riciclabile. Siamo a Capannori grazie al portale del cittadino di Ascit. Novità sotto il segno della trasparenza per tutte le utenze domestiche e non domestiche. Da poche ore è infatti attivo a Capannori il portale del cittadino di Ascit, il nuovo servizio online attraverso il quale le famiglie e le attività del territorio potranno controllare il numero dei ritiri dei propri sacchi grigi del non riciclabile. Realizzato dall'amministrazione Menesini e dall'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, ha l'obiettivo di rendere più consapevole la popolazione verso l'aspetto chiave della tariffazione puntuale. Il portale del cittadino, accessibile tramite l'apposito collegamento grafico presente sul sito www.ascit.it, è stato presentato dal sindaco Luca Menesini e dal presidente di Ascit, Maurizio Gatti. Il lancio di questo portale è importante perché era un impegno che avevamo preso con i cittadini, gli utenti, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza nel servizio che eroghiamo. Infatti i cittadini possono accedere tramite questo portale al loro account dove vedere i dati relativi ai sacchetti di non riciclabili che hanno consegnato e sulla base di questo avere anche un'idea di quella che sarà la loro tariffa perché quanto meno sacchetti si consegnano meno si paga ed è importante per il cittadino avere uno strumento di conoscenza. Il portale del cittadino è improntato alla rapidità e alla semplicità per essere facilmente utilizzabile su tutti i tipi di dispositivi, computer, smartphone e tablet. Tra le caratteristiche che rendono semplice il servizio c'è pure il raggruppamento degli svuotamenti per codice fiscale partita IVA. I dati vengono aggiornati ogni tre mesi circa, sono quindi disponibili quelli fino al 30 settembre 2018 e tutto 2017. L'obiettivo del comune di Ascit, dopo una prima fase sperimentale, è quello di rendere più frequente l'aggiornamento dei dati stessi. Pagina della cronaca, tre giovanissimi in età compresa tra i 17 e i 19 anni, rispettivamente pizzaiolo, operaio e studente, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri di Lucca per il reato di ricettazione. Nel momento in cui i militari li hanno avvicinati, tre giovani hanno dapprima cercato di abbandonare l'auto, qui erano alla guida, poi invece controllati hanno riferito di aver ricevuto il veicolo in prestito da una signora di pescia. In realtà l'auto l'avevano rubata ed erano tutti e tre, anche i due maggiorenni, senza patente. Unità cinofile dei carabinieri, in questo caso però a controllare i parchi e le scuole della zona di Bagni di Lucca. Prosegue l'attività dei carabinieri per garantire sicurezza in Garfagnana, Media Valle e Val di Lima. Si tratta di un'operazione con la quale i militari si sono concentrati sul controllo del territorio attraverso la presenza costante nei punti di aggregazione e in particolare nei pressi delle scuole. Gli uomini del comando di Bagni di Lucca, guidati dal maresciallo Pieroni, hanno eseguito verifiche mirate proprio nella cittadina termale. L'operazione, coordinata dalla Compagnia di Castelnuovo, ha visto l'impiego anche di una unità cinofila appositamente arrivata da Pisa. Sono stati scandagliati tutti gli angoli del parco in centro a Bagni di Lucca, alla ricerca di possibili nascondigli usati da spacciatori e consumatori di stupefacenti. Poi i carabinieri sono passati anche al plesso scolastico, dove la loro presenza è servita anche da deterrente a eventuali malintenzionati che volessero introdurre droga in aree così delicate, poiché frequentate soprattutto da minorenni. Otello, uno dei capolavori di Giuseppe Verdi, andrà in scena al Teatro del Giglio di Lucca, in esclusiva a Toscana, venerdì 18 e domenica 20 gennaio. Lo spettacolo, che è una produzione Ravenna Festival, Teatro Alighieri di Ravenna e Teatro del Giglio di Lucca, porta la firma per regia ed azione scenica di Cristina Mazzavillani. Pensate che Otello torna a Lucca dopo ben 55 anni, da lontano, 1964. Ed ora andiamo nel comune di Borgamozzano, a Doneta, dove è stata restaurata la statua linea di Santa Lucia, appunto nella chiesa di Oneta. Un concerto per salutare il ritorno nella chiesa di Oneta della statua linea risalente al XV secolo raffigurante Santa Lucia. L'intervento di restauro eseguito da lucchese Massimo Bonino sotto la supervisione della sovrintendenza e beni culturali di Lucca è durato circa sei mesi. Tutto il costo dell'intervento è stato a carico della comunità di Oneta, con l'importante contributo anche della famiglia Pieri. È un restauro importante, fatto da un restauratore molto bravo come Massimo Bonino e la stessa sovrintendenza, che ha seguito tutti i lavori di restauro, riconosce che questa statua policroma è forse l'immagine più antica esistente in provincia di Lucca della Santa Lucia. Nonostante che la chiesa sia intitolata Sant'Ilario, questa comunità ha sempre festeggiato il 13 dicembre Santa Lucia come la festa religiosa più importante dell'anno. Nel passato venivano ad onorare la Santa anche dai paesi vicini. Santa Lucia era la festa più importante, la Santa più riconosciuta di Oneta, era la Santa protettrice degli occhi a cui si rivolgeva questa comunità ma anche tutte le comunità intorno ai paesi vicini. Domenica prossima, 13 gennaio alle 16.30, nella chiesa di Sant'Ilario si apriranno i festeggiamenti con un concerto curato da Graziano Polidori, con la partecipazione di tanti artisti di alto livello, i quali eseguiranno un repertorio di brani celebri molto conosciuti e apprezzati dal pubblico. Sarà anche l'occasione di sentire direttamente Massimo Bonino e le sue tecniche applicate sul restauro alla statua linea di Santa Lucia. Ed ora la rubrica L'ancora curata come ogni settimana da Sergio Talenti. Venerdì 11 gennaio, la notte comincia alle 6 e finisce a mezzanotte in punto, con le stesse parole e in tutto il paese. È la notte bianca dei licei classici italiani, giunta alla sua quinta edizione. 415 istituti e in costante aumento. Da Barga a Luca a Viareggio, migliaia di persone fra alunni e familiari affolleranno le aule. Nata a Darce Reale, l'iniziativa sta dilagando in tutto il paese. E questo vuol dire anche che il paese dispone di risorse insospettate nei confronti di mondi che si nutrono più delle volte di tweet, di parole oscure e anche di banalità. Notte in cui i giovani riflettono sulle ragioni degli eventi e della storia, ma anche sulle emergenze di oggi. Non a caso al liceo classico di Viareggio, a Carducci, la lezione magistralis ha un titolo inequivoco, guardare gli altri, vedere se stessi. Poi il comune brano finale recitato a mezzanotte da tutte le scuole è che questo anno riguarda Euripide ed è in particolare uno sguardo acuto su Troia, una città fiera ed eroica distrutta da un potere imperiale. Ecco, la scuola pubblica ancora una volta dimostra di essere un deposito di valori straordinari e di sicura attualità.